I sindaci del Tirreno Cosentini incontreranno domani alle 11.30 l'assessore all'ambiente della Regione Calabria Francesco Pugliano. Questa è la prima notizia scaturita dalla conferenza dei sindaci tenutesi ieri sera a Buonvicino, in cui si è discusso dell'emergenza rifiuti. L'obiettivo dei 15 primi cittadini dei comuni altotirrenici è trovare una strategia con la Regione per risolvere definitivamente i disagi di questi giorni. Come confermato dal sindaco di Scalea Pasquale Basile, verrà riproposto il progetto dell'impianto di selezione, fermo da due anni in Regione in attesa del parere di impatto ambientale, e quello del sistema di triturazione che permetterebbe una prima lavorazione dei rifiuti e un loro eventuale conferimento fuori Regione. Se l'impianto di selezione andasse in porto, sarebbe il primo in Calabria e permetterebbe inoltre una corretta differenziazione dei rifiuti, alleggerendo il lavoro dei cittadini che dovrebbero dividere gli scarti solo in secca e umido. Per il vice sindaco di Praia Amara, Antonio Giannotti, un'altra soluzione immediata è la differenziata. Quella spinta, detto, introdotta da pochi giorni in località laccata, in teoria garantisce una efficace selezione dei rifiuti. Fatto sta che al momento nel quartiere praiese serpeggia il malcontento con i residenti che lamentano una certa disorganizzazione nella distribuzione dei kit e delle buste. Su questo il vice sindaco ha spiegato che l'emergenza è in posto di iniziare immediatamente, di qui l'iniziale disorganizzazione. Entro sabato, al massimo entro metà della prossima settimana, poi proseguito, tutte le famiglie riceveranno il necessario per iniziare a differenziare. Fino ad allora potrà essere utilizzato qualsiasi tipo di sacchetto.